Questo è Huawei MediaPad M3 Lite, è un tablet ed è pensato soprattutto per gli amanti di film e serie tv. Ve ne parlo tra poco qui su Tech Princess. Pensate a tutte quelle volte in cui vorreste guardare una puntata della vostra serie tv preferita ma non volete stare seduti davanti al pc. Oppure a quelle volte in cui volete guardare un film ma la tv in salotto è occupata. In tutte queste occasioni potete chiedere aiuto a Huawei MediaPad M3 Lite. Questo tablet è caratterizzato da un display da 10 pollici ed è realizzato quasi interamente in plastica. Questo lo rende piuttosto leggero e facile da trasportare. Sotto la scocca trovate un processore Snapdragon 435, una GPU Adreno 505 e 3 GB di RAM. Non mancano poi il GPS, la connessione Wi-Fi e il Bluetooth 4.1, mentre la batteria è da ben 6.600 mAh, così potrete usarlo per ore senza problemi. A conti fatti la dotazione hardware non è eccessivamente aggressiva, ma si rivela comunque ideale per svolgere compiti di base come controllare le email, navigare su internet, cercare qualche ricetta o leggere qualche libro. La memoria interna è invece da 32 GB, espandibile tramite microSD. Il punto forte di Huawei MediaPad M3 Lite è indubbiamente il lato multimediale. Il display con risoluzione Full HD si rivela davvero utile per guardare film, video online e serie tv. Il comparto audio invece è firmato Arman Kardon ed è composto da quattro speaker in grado di riprodurre suoni nitidi e avvolgenti. Questi quattro altoparlanti sono inoltre posizionati sui lati superiore ed inferiore, così non rischierete di coprirli accidentalmente con le mani. Insomma, vi basterà scegliere cosa fare, mettervi comodi e rilassarvi. All'intrattenimento ci penserà Huawei MediaPad M3 Lite. Ma non è finita qui, questo tablet infatti è venduto anche in versione 4G LTE. Oltre quindi ad usare il Wi-Fi potrete contare su una classica SIM. In questo modo potrete usare Huawei MediaPad M3 Lite anche al parco, in giardino o in spiaggia. State attenti però, questo dispositivo non è resistente all'acqua, quindi tenetelo lontano dalla piscina, dalla vasca da bagno e dal mare. Direi che per oggi è tutto, io vado a guardarmi qualche bel documentario con MediaPad M3 Lite. Voi nel frattempo visitate il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao! Grazie a tutti!